Henry James è stato uno scrittore e critico letterario statunitense naturalizzato inglese, fratello del filosofo e psicologo William James e della scrittrice Alice James. Nasce a New York il 15 aprile del 1843 e muore a Londra il 28 febbraio del 1916. La sua è una ricca famiglia di intellettuali e quindi il giovane Henry fin da bambino compie molti viaggi con la famiglia sia in America sia in Europa dove studia con famosi educatori a Ginevra, Londra, Parigi e Bonn. All'età di 19 anni inizia a frequentare la Harvard Law School ma abbandona quasi subito questo suo percorso preferendo dedicarsi full time diciamo così completamente all'attività di romanziere. Dopo un breve soggiorno a Parigi nel 1875 James si stabilisce in Inghilterra dove inizia a scrivere racconti per riviste americane e romanzi che però non riscuotono successo immediato. Nei primi romanzi che sono Roderick Hudson del 1876, Daisy Miller del 1879 e il celeberrimo Portrait of the Lady del 1881 James analizza l'impatto della civiltà europea sulla vita americana sottolineando il conflitto culturale tra l'innocenza e la purezza della società americana opposta invece alla corruzione di quella europea. A questa tematica si collega quella dell'inganno che vede i protagonisti di indole buona e solitamente appartenenti a ceti benestanti soccombere spesso di fronte a individui corrotti. La differenza tra le due culture quindi quella americana e quella europea viene poi trattata più in profondità nei romanzi The American, l'americano del 1877 e The Europeans, gli europei del 1878 in cui il tema dell'opposizione tra i due mondi si risolve nell'immaginaria fusione dei diversi costumi e valori nella figura di un americano europeizzato. Con i romanzi successivi James inizia poi a esplorare le implicazioni psicologiche che l'adattamento a una nuova cultura comporta. James diventa così il pioniere del romanzo psicologico compiendo analisi psicologiche dei personaggi a livelli di profondità mai toccati fino a quel momento. L'interesse del narratore si sposta così dagli eventi del mondo esteriore a quelli del mondo interiore dei personaggi. La narrazione è presentata attraverso gli occhi dei protagonisti di cui sono riportati i monologhi interiori e scompare quindi quasi del tutto il narratore onnisciente. Dopo un periodo in cui James si dedica alla stesura di romanzi brevi su tematiche sociali come il femminismo e l'anarchismo inizia la seconda fase della sua produzione letteraria, quella definita sperimentale. Un esempio è l'opera dal titolo What Maisie Knew, quindi Ciò che Maisie sapeva, del 1897. A quest'ultima fase della sua produzione appartengono romanzi dove James torna sul contrasto tra carattere americano e carattere europeo. Sullo sfondo però di vicende che sono al limite del fiabesco, che vogliono assumere anche un carattere didattico educativo. Ricordiamo The Wings of the Dove, Le ali della colomba del 1902 e The Ambassadors, gli ambasciatori del 1903. Con le sue due ultime opere, entrambe incompiute e pubblicate postume nel 1917, quindi un anno dopo la sua morte, James vuole descrivere le infinite fluttuazioni della coscienza e allo stesso tempo le complesse e innumerevoli sfaccettature della realtà. Queste due opere sono The Ivory Tower, La Torre d'Avorio, e The Sense of the Past, Il Senso del Passato. James è autore anche di numerosi racconti, oltre 100, tra i quali ricordiamo The Turn of the Screw, Il Giro di Vite, del 1899. Lo stile di James è caratterizzato dall'uso di lunghe frasi, allo scopo di dare al lettore spiegazioni particolareggiate degli eventi. Come è tipico della letteratura americana, James utilizza molto la simbologia e lo fa anche, ad esempio, nei nomi. Mr. Goodwood, di Portrait of a Lady, è, ad esempio, un personaggio positivo, come dice il nome appunto, Goodwood. Bene, parliamo adesso dell'opera Portrait of a Lady. Allora, il romanzo ruota intorno alla figura della giovane americana Isabel Parker. Le vicende sono vissute attraverso i suoi occhi, mentre la stessa Isabel è raccontata attraverso il punto di vista degli altri personaggi, che permettono così al lettore di vivere l'evoluzione morale della donna e la graduale rivelazione dell'inganno in cui cade. James scende nella profondità dell'animo di Isabel con un'attenta indagine psicologica. Isabel Archer è una giovane americana che si reca in Inghilterra per visitare dei parenti, la famiglia Touche. Qui stringe amicizia con diverse persone. Lord Warburton, che si innamora di lei, ma viene respinto perché, appunto, Isabel è alla ricerca di un amore più coinvolgente. Il connazionale Caspar Goodwood, che abbiamo già menzionato parlando della simbologia, simbologia, quindi una persona buona, che però Isabel ha già rifiutato in precedenza, ma che continua a corteggiarla, e conosce poi Madame Merle, un'americana trasferitesi da tempo in Europa. Il cugino di Isabel, Ralph, di salute cagionevole, convince il padre a lasciare a Isabel una grossa eredità. E quindi, una volta ricevuta questa eredità, Isabel, oramai indipendente, inizia a viaggiare per tutta Europa. E proprio da questa eredità, potremmo dire, cominciano, diciamo così, i suoi guai. Infatti, in Italia, ritrova Madame Merle, che le presenta l'americano, anch'esso oramai europeizzato come lei, di nome Gilbert Osmond, che è anche il padre segreto di Pansy, che appunto è la figlia di Madame Merle. Isabel è subito affascinata da Osmond, che però è soltanto interessato alla sua fortuna, quindi ai soldi, al denaro, in pratica, di Isabel, e trama con Madame Merle per, appunto, impossessarsene. Nonostante il parere contrario sia di Goodwood sia del cugino Ralph, Isabel, donna giovane, forte e indipendente, decide di sposare Osmond, ma il matrimonio non si rivela felice perché Isabel, appunto, è più indipendente di quanto lo stesso Osmond avesse pensato. La coppia, quindi Osmond e Isabel, la coppia di sposi, riceve la visita di Lord Warburton e Osmond medita di combinare un matrimonio fra l'uomo e sua figlia, Pansy, che però è innamorata e ricambiata di un altro uomo di nome Edward Rosier, a cui però Pansy rinuncia per volere del padre, per seguire le indicazioni del padre che, appunto, è contrario a questo matrimonio e la vorrebbe, invece, sposa di Lord Warburton. A questo punto Isabel scopre il ruolo di Madame Merle nella vita del marito e anche nel suo stesso matrimonio, quindi le loro trame per impossessarsi della sua fortuna e, poco dopo, riceve anche la notizia che suo cugino Ralph è in punto di morte e decide così di raggiungerlo. Malgrado Isabel a questo punto sappia tutto e quindi si renda conto che l'uomo giusto per lei non era Osmond, ma era Goodwood, decide comunque di tornare da suo marito sia per onorare il suo impegno matrimoniale sia per seguire quello che lei ritiene essere, il suo destino. Molto bene, l'opera termina così. Adesso spendiamo due parole sui personaggi principali. Allora, James ci presenta Isabel come una giovane sensibile, intelligente e volitiva, ma la sua ingenuità la fa cadere vittima di una rivista. Invece il tema dell'opposizione tra l'innocenza americana e la corruzione europea è rappresentata da un lato, quindi dal lato dell'innocenza, da Isabel, e dall'altro quindi della corruzione da Osmond e Madame Merle che seppure sono americani vivono in Europa da molti anni e quindi ne hanno assimilato i costumi corrotti. James affronta poi la tematica dell'inganno con drammatica ironia rendendo palesi le intenzioni di Osmond e Madame Merle al lettore, quindi rendono palesi queste intenzioni al lettore attraverso la consapevolezza stessa che sembrano avere tutti i personaggi della storia di questo intrigo. Quindi tutti sanno di questo tranne però la ingenua protagonista Isabel che è infatti l'unica a non accorgersi di nulla fino a quando non è tardi. Come abbiamo visto la conclusione del romanzo non prevede il lieto fine. Isabel infatti decide di tornare al suo matrimonio infelice sia per orgoglio sia perché sente dentro di sé di dover seguire il destino che si è scelto. Bene, questo video termina qui spero vi sia piaciuto grazie per la visione ciao a tutti e alla prossima Grazie per la visione